Ultime ore prima della sfida contro la Polonia, partiamo dal contestualizzare il momento della nazionale, abbiamo giocato anche un test match, una sgambata contro Cassano Magnaco, come sta l'Italia? Ieri la partita amichevole è servita soprattutto per stabilire certe rotazioni, le posizioni in campo, il ripiegamento in difesa, i ragazzi si sono impegnati però si vedeva che avevamo un po' il freno a mano tirato per paura, secondo me, di infortuni. Che momento è dell'Italia? Lo sappiamo tutti quanti che dopo sei anni di crescita ci siamo meritati l'occasione di giocare questa partita che con molta probabilità vorrà dire l'accesso agli europei, per cui è straimportante, lo sappiamo tutti, però siamo contenti perché ci siamo arrivati con tanta fatica e quindi la desideriamo. Una partita che, l'hai detto anche in conferenza stampa, non ha bisogno di motivazione dal punto di vista mentale? Questo è fuori discussione, nel senso che non si può parlare di motivare i giocatori, chi non sarebbe motivato, si tratta solamente di trovare la consapevolezza della nostra forza. Noi non partiamo favoriti ma avendo studiato la Polonia posso dire che non siamo inferiori, quindi è una partita da vincere con un avversario forte sicuramente, però non più forte di tanti altri avversari che abbiamo incontrato. Conosciamo un'Italia che sa giocare veloce, contro la Lettonia abbiamo conosciuto un'Italia però che ha anche saputo rallentare nei momenti in cui forse la partita non richiedeva più una corsa esasperata, che Italia vedremo invece contro la Polonia? Sicuramente veloce perché la loro difesa non è come la difesa della Lettonia dove abbiamo scelto di giocare in quarta fase. La Polonia ha una difesa fisica per cui è molto importante continuare con il nostro gioco e non tornare indietro come abbiamo fatto volutamente contro la Lettonia. C'è da dire che loro hanno dei problemi nei cambi attacco e difesa per cui questo sarà vitale per noi andare in velocità senza perdere la palla ma cercando di attaccare una difesa non sistemata. Che differenze ci sono, se ce ne sono secondo te, rispetto alle altre occasioni che avevamo avuto nelle due precedenti tornate di qualificazione perché eravamo sempre arrivati in questa stessa situazione con la quinta partita che poteva essere decisiva? Sì, è vero, questo è un merito perché non è scontato che la squadra che è al quarto posto del ranking poi batta la terza e si giochi questa possibilità con la quinta partita. Per cui rispetto alle altre volte penso che c'è più consapevolezza dei propri mezzi nonostante la squadra sia notevolmente ancora ringiovanita. Quindi è questa la grande differenza, la consapevolezza che non avendo nulla da perdere abbiamo più Schalz. E poi c'è in ultimo il fatto di giocarsela in casa e si preannuncia una cornice di pubblico importante, c'è grande entusiasmo. Questo è importante per l'atmosfera che si crea intorno ai ragazzi, che possa esaltarli nelle loro situazioni. Diciamo che fa piacere giocare con più di 2000 spettatori in un giovedì che non è così facile poi avere, quindi siamo molto molto contenti. Grazie. 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 Grazie.